ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video vi faccio vedere questo nuovo blu ray ovvero rocky la saga completa e creed 7 movie collection esclusiva amazon molto box molto bello blu ray ovviamente ecco qui che combatte contro a pollo come retro andiamo ad aprire la confezione e dentro abbiamo il poster del film del primo film di rocchi che ora non sto qui ad aprire perché sennò ecco qua però un po aperto così quando non si fa stallone e adriana possiamo impostare dentro poi abbiamo quello che fanno lucini che si metteva rocchi e poi abbiamo il cofanetto di rocchi la saga completa e creed ecco qua come l'interno ecco metto ci sono tutti i vari film e creed non anche solamente crede due per completare la saga di rocchi e niente questo era il cofanetto di rocchi i rocchi se riesco a trovarlo su amazon mi lascio il link in descrizione e niente mettete piace commentati iscriviti al canale noi ci siamo prossimi